Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di ravioli di magro 20 foglie di basilico Foglie di menta Una manciata di pinoli Sale Mezzo bicchiere d'olio Un cucchiaio di pasta di olive verdi Preparazione Frullare il basilico La menta I pinoli Poco sale e l'olio Unire al pesto la pasta di olive e mescolare Cuocere al dente i ravioli e condirli con la salsa Il piatto è pronto Buon appetito